Anche la Puglia si adegua alla circolare del commissario straordinario per l'emergenza covid figliuolo, aprendo a tutte le fasce di età la prenotazione delle vaccinazioni dal prossimo 3 giugno. La fascia di popolazione, compresa tra i 39 e i 16 anni di età, è pari a un milione di persone circa e per evitare che i canali telematici si intasino, come già accaduto, si procederà per gradi per assicurare il servizio migliore ai cittadini. Per i nati dall'82 all'86 al via le prenotazioni il 3 giugno, dall'87 al 91 il 5 giugno, per i nati dal 92 al 96 il 7 giugno, dal 97 al 2001 il 9 giugno e infine dal 2002 al 2005 l'11 giugno. Resta ferma la priorità per quella parte residuale di popolazione over 60 con fragilità che non ha ancora ricevuto la prima dose. Proseguono le vaccinazioni maturandi e nelle prossime settimane saranno avviate in parallelo le vaccinazioni del mondo produttivo secondo quanto indicato nei protocolli di intesa con le aziende. Non appena l'EMA autorizzerà l'utilizzo dei vaccini anche sui bambini più piccoli, diciamo dai 12 anni in su, noi vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quei bimbi che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare, a vivere normalmente ad andare a scuola. Quindi verranno chiamati tutti dai centri che li hanno in cura e li vaccineremo in fretta in modo tale da fargli passare un'estate un po' più tranquillo e un po' più sereno.